Biden ha la scuola, intanto seguitemi che faremo recensioni di auto. Vi piacciono le auto? Ne parleremo di auto. Che auto vuoi? Che auto vuoi? Una TT, una Boxster, un Carrera S, eh? Ne parleremo, ne parleremo. No, ti voglio dire questo, ti voglio dire, ha vinto Idley. Idley è un australiano, tra i tuoi traguardo, primo australiano di sempre. Simonini, come si chiama, Nibali, lascia il professionismo. Noi siamo molto scontenti di questo, però non ci possiamo fare niente alla fine. Biden è andato alla scuola a vedere i ragazzini, a vedere i ragazzini. Quella scuola là che è successo quel casino, là in America. Comunque, dai, piolato, piolato in festeggiamento, piolato, 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 piolato festeggia. Ha trovato anche la medaglia. Siamo a tutte queste polemiche sul reddito di cittadinanza. Torniamo sempre sulla polemica del reddito di cittadinanza. Reddito sì, reddito no. Lo Stato dovrebbe garantire una soglia minima a tutte le persone. Quindi ci dovrebbe essere un reddito universale. Da 500 euro in modo tale che gli stipendi schizzano a 2.000 euro. Se non sei capace di pagare gli dipendenti 2-3.000 euro, almeno 1.000 euro in più della misera che gli danno adesso, soprattutto gli stagionali ma anche gli altri, soprattutto quelli che lavorano nei ristoranti, nei bar, chiudi l'attività, vai a fare il dipendente. Mettiamo tutto nelle mani delle multinazionali o di società. Per esempio, certe banche in certi paesi sono cooperati dallo Stato e diventano aziende statali, parastatali. Hai capito? E diventa socialismo di fatto, che è l'economia migliore, dove i poveri possono partecipare alla vita del paese. Se non sono esclusi e calpestati dal capitalismo. Idley è il primo australiano di sempre. Berlusconi si è addormentato durante la partita col Monza, hanno svegliato i fischi e i gol. E niente, dai, quindi stiamo uniti, facciamo squadra, facciamo crew, facciamo paese e andiamo avanti. Guardiamo avanti con l'ottimismo. Adesso inizia l'estate, fra tre giorni arriverà il caldo, arriverà il caldo sulle spiagge italiane. Il soleone. Speriamo non succeda qualche casino proprio durante l'estate, che è il periodo che tradizionalmente l'italiano medio prende le ferie. Chiudono le grandi fabbriche, chiudono le scuole, la gente si riversa sulle strade. L'autosole diventa un circo equestre, ok? Quindi facciamo squadra, facciamo crew, stiamo insieme, stringiamoci forte, non ci saranno i mondiali. I mondiali giocheranno in verlo. E quindi niente, speriamo che questa guerra finisca presto e peace and love, peace and love. Grazie.